Sono passati 14 anni dall'evento che ha cambiato per sempre la storia del Molise. Nel luogo dove sorgeva la scuola elementare, un pilastro lascia il segno del passare del tempo e tutto intorno, le lapidi con i nomi dei 27 alunni e della maestra, ricordano le aule della Iovine, un edificio, la scuola che dovrebbe essere il più sicuro di tutti, nei giorni in cui un altro devastante terremoto ha sconvolto l'Italia centrale. Lunedì 31 ottobre si celebra la giornata della memoria San Giuliano di Puglia, il paese più colpito dal sisma del 2002, oggi ricostruite una comunità che gradualmente ha ripreso una vita per quanto possibile normale, un giorno dedicato alla riflessione, alla preghiera e a rinnovare un monito a tutte le istituzioni, quello di continuare a lavorare per la sicurezza degli edifici scolastici e delle case, un tema che non ha mai perso l'attualità e che configura un forte appello rivolto in ogni angolo del paese. A San Giuliano, come ogni anno, saranno diversi i momenti di una giornata di ricordo e commemorazione. Alle 11.32 il ritrovo al cimitero comunale, dove la campana degli angeli suonerà per 30 volte, scandendo così i nomi dei bambini, della maestra e delle due donne morte in paese. Il corteo raggiungerà il parco della memoria, costruito sulle macerie dell'edificio crollato per la deposizione delle corone di fiori. Alle 17.30 la funzione che aprirà la lunga veglia di preghiera fino alla messa di ogni santi, celebrata alle 11 dal vescovo Gianfranco De Luca. Nella serata del 31 ottobre, alle 20, la significativa fiaccolata lungo il percorso della memoria a cura del comitato vittime della scuola. Un ricordo sempre vivo e momenti di incontro e partecipazione anche tra chi c'era e chi è nato dopo per guardare al futuro con consapevolezza e rispetto in un abbraccio condiviso.